ecco ci ho ficato subito la mano comunque buongiorno non so dove guardare sono al manualmente fiera a lingotto giustamente se vi faccio vedere il rino comics che non c'entra niente con me uh sei apposta anche tu ti sei vista dimentico che c'è la camera di lì comunque ovviamente ci stava fare questo non guarderò mai in camera perché io guardo lì e facciamo un giro veloce mi metto le bancarelle sto per vedere cosa c'è sono ingordabile poi c'è roba di nata ma siamo ancora in inverno qua qua non iniziamo queste cose ti si vede anche te nel video mi spiace poi dove c'è di tutto scrabbooking ma lo scrabbooking non mi serve c'è la mia faccia stampini no non so stampini non lo so maglia tanta roba quindi non so cosa siano ma mi ispirano perché sono colorati appena trovo qualcosa che mi interessa lo blocco perché sennò la gente mi sta prendendo per pazzo qui fanno i laboratori vabbè noi continuiamo tu mi ispiri di qua vabbè questa è l'entrata qui ero venuta a comprare delle cose con monica io sono alla ricerca della to do forse oh questo è un marketer che può interessare come cazzo stoffa tanta roba il mio mondo ancora tanta roba no vabbè no vabbè no vabbè ci devo entrare lì dentro assolutamente stoffa colorata guarda 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 sarebbe da comprare tutto figuizio no io della to do non vedo nulla ma no non mi senti la sale però è un po' presto c'è qualcosa che potrebbe interessare non lo si sa guarda quanto roba non posso fare troppe espressioni mi guardano tutti malissimo ti sei vista una faccia boccia se ci guarda 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 guard Però della tutu ancora niente traccia Mi schifano le ponte polimerga Io continuo a cercare Non mangio Tantissimi Ti voglio tutti Tanti colori Sei bianca Amo questa bancarella Per tutti i colori che c'ha 8 euro Poi vi farò vedere cosa c'è dentro Proseguiamo Tanta roba Vediamo se esco anche da qua con un bottino Sì ho fatto un po' di acquisti Andiamo a vedere Quanto spenderò per questo po' di roba Questa bancarella No bancarella questo espositore è fighissimo ma è stata la mia rovina Ho incontrato una di voi pure Che figo Ha questo ha fatto 28 euro e 50 Scorto di 50 centesimi e 28 euro Un sacco di roba Ma poi vi faccio vedere nel dettaglio dopo Bello bancarella bello Solo ora mi rendo conto Questa bancarella io ce l'avevo già comprata online Infatti tada Resina E fimo nuovo scorta Ho speso 50 euro Giusto? 50 euro Bene Proseguiamo Alla ricerca della tutu che non l'ho ancora trovata Beh Ma che figata sono Mi marito mi ha promesso che mi fa questa stasera Questo qua Io voglio anche la nomada Guarda la nomada Ma la pigna è una pigna Non lo so Voglio anche la mela con la formica dentro Che figo Ma che figo Facciamo un presepe di visual food quest'anno No perché te lo metto Lo propongo a mia mamma Mamma fai il presepe di visual food Aspetta Facciamo vedere anche chi sono le persone Come vediamo in Piemonte Chi c'è per il Piemonte Ne abbiamo un po' in Piemonte Ne abbiamo quattro Chi è pieno di Valo? Chi? Rivarolo anche No Rivarolo è buono No Si perché ho mangiato al mercatino un po' di tempo fa Si Fighissimo si possono mangiare? non ci vogliamo no mi fai una torta così per il prossimo compleanno? ma uffa ahia mi sono mezzo incascata andiamo a cagare anche noi ma che carine prendiamo il foglietto vabbè tu prendi non importa il futuro può sempre servire allora abbiamo finito il giro e nel todo non c'è stata traccia però vabbè ho fatto un po' di acquisti di là c'è sempre il coso colorato che è bellissimo non so cos'è no si so cos'è su un quadro e qui siamo appunto nella zona che avete già visto prima all'inizio del video e niente noi ci mi sa che ci dirigiamo l'uscita perché non l'ho trovato la to-do ma porca miseria ma io me l'ho dato la to-do vabbè però direi che ho speso quasi 100 euro sì 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 e quindi niente boh è lei è lei che compra lo so è lei vero poi faccio le confusioni come dico a lei sì aspetta vieni qua con me allora mentre inquadriamo la tua amica con le ganor ciao sto fine l'ho fatto ho comprato tutto tranne la to-do che non l'ho trovata vabbè quindi appari nel video puoi sì vero mi dai il permesso perfetto ciao buon proseguimento ciao ah io l'ho azzeccato ogni tanto ho la memoria accorta niente e allora adesso si ritorna a casa perché non l'ho trovata la to-do però appunto ho fatto un po' di spese magari anziché continuare con il video che viene un po' lungo o faccio un video di quelli velocizzati con la musichetta vi faccio vedere le cose che ho comprato altrimenti vi metto solo le foto e niente da manualmente fiera all'ingotto e tutto e boh ci rivediamo come sempre con questa mini inquadratura perché preferisco fare la mini inquadratura perché è un casino di rami ci vediamo prossimo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.